Ah buongiorno ragazzi, non abbiamo visto, come state? Oggi ragazzi io mi sa che starò meno bene per causa della 50-20 che dovremo fare poi in futuro Allora, devo dirvi che ho ricevuto le vostre risposte, quindi vediamo un po' cosa mi avete inviato Mi sono arrivato in totale 4, quindi vediamo un po' cosa mi avete consigliato Iniziamo con le notti challenge Prima notte, allora la prima ce la consiglia Dear Danner Buonasera Dear Danner Che mi ricordo che era il personaggio di Kindergarten 2, tipo lo scienziato, si Bel personaggio a dirti sai Qual è il Music Man? Lefty, Chica, boh Allora iniziamo a mettere Music Man a 20 Lefty, ok Lefty Quindi quelli più pastichiosi Chica Ok, ve ne indicato uno Bonnie Va bene Regolare Fozzi Eh eh C'è anche Fozzi Pappetto, oddio Così che è Ok Pappam, Panta e Fozzi Ok, oddio questa è qualcosa di ospigliosa Springtrap Non è? Ecco Springtrap Ok, questo ti può vedere E Ippo Ok, regolare Allora Ippo lo possono già togliere tranquillamente Notte veramente difficile me ne è fatta dire danno Devo essere onesto Allora, Duke System Siamo da qui Vabbè qui non c'è bisogno In concludiamo Vabbè, Ballunguai non c'è giusto Ok, tu stai lavorando Lavori, lavori Aspetta, devo fare una cosa Ok, cambia qua Accendo il ventilatore Che mi serve, dottore Mi serve per ragionare Ok Ma quando mi smuda tipo questo Posso fare tipo così Aspetta Sì Non cambia più velocemente Ok, attiva music Boz No Ma questo è forzio No Aspetta l'intirazione La musica, la musica Attiva questa musica Ma lei sembra che mi toglie la roba E adesso, scusa Sì, sempre me la toglie No Madonna Madonna mia Che brutto Donna, questa è una notte da 1800 punti Qui c'è Springtrap Una notte potrebbe essere abbastanza fastidiosa Quindi Ah, qui c'è Bonnie Quindi Lascio stare Quindi tu che mi vuoi comparire Fanta un pozzo Proprio Se no, stai la sbagliatissima Perché io queste cose le ho fatte anche peggio Mi sembra Poi Lui compra Cliccare setta Perfetto Azione acqua La ventilazione Così siamo attimo tranquilli Adesso quando arriva Springtrap Poi vedere Allora senti Danner Ma questa notte Non ti ci mettere tu di ti che non senti un cavolo con la nostra notte I e danner è la nostra notte Andiamo chi mi aggiunge Qualcuno mi aggiunge sicuro Ah, chi mi ha aggiunto? Vediamo Oh, forse no Non esiste Oh, no Non esiste No Oh, forse ha rotto le scatole Mi ha aggiunto Fred No Aspetta un po' Non lo so Mi per uscire Vedo qualcosa Non lo so Non lo so Non so chi mi ha aggiunto Didi Perché Didi è stranissimo Non mi aggiunge persone Maledizione a Pozzi Che non si fa Facci suoi Oh, si è cambiato Allora Naveduk esiste Non c'è Non si trova Naveduk esiste De camera 6 No Ok Pozzi Buonasera Didi Vabbè Didi Stanotte che deve fare Mi vuole arrivare Bello caro Carica Carica Cortesia Giustando problemacci Ok Ora ci abbiamo Qui delle cose da gestire Maledetto Pozzi Che non volevo Scomparire Sto Pozzi Guardi sto guardando Non mi piace Di BBM Grazie Pozzi Hai rotto le palle Di comparirmi Nelle telecamere Pozzi Da allevare Munnezza Aspetta qua Grazie Pozzi Grazie Si è levato Il messier Si è levato Spegni C'è una ventilazione Oma incredibile Oma incredibile Verò Garba Gio 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 chi ma sbuca nessuno 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 porca la miseriaccia allora prossima notte ragazzi davide ci dice parla solo di bonnie ok bonnie intende anche spring trappo sono bonnie mi facciamo la bonnie 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 1 bonnie ok quindi 1 del 3 bonnie videret tutti del 1 2 4 c'è un bonnie del 5 no c'è un bonnet però bonnet non c'è qua cioè non mette mi sa nel dd però dd dobbiamo vedere e rock star bonnie ok come bonnie dobbiamo soltanto prendere i coin e poi il resto possiamo attivare la power quanto vogliamo è unico allora soprattutto che dobbiamo vendere i coin per il signore ok e vabbè la music bot non c'è qua quindi 60 salve buongiorno dove trovo la chitarra mi ricordo si dovevo trovare la chitarra la chitarra te l'ho trovata addio allora lui mi sembra che ci compare quando teniamo dopo delle camere alzata salve guidare bonnie sulla chitarra ok la chitarra e questa è quando la notte è fatta per curiosità comunque la chitarra non riesco a trovare la minchia la vista questa chitarra oh vedo come ti fatti a basare la chitarra eh non me la chiedere più questo costo è la peluccia ecco ti dico ora aggiungi un altro bonus mettiamo ho problemi tantissimi ma come aggiungo è davanti soltanto bonnie mi aggiungimi bonnie nooo hai rotto le balle e aggiungimi animato inizio non c'entrano il cavolo con la nostra notte ah no vado anche della telecamera vabbè ormai vabbè non mi dovrebbe attaccare salve la chitarra è fatta chiaro la chitarra è fatta 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 головale A te ti aiuto con la soddisfazione incredibile Eeeh ragazzi E anche questa notte da 1050 punti L'abbiamo fatta GG raga Di dimmi vi vuole aggiungere persone ma ormai Zombie segnalettico Quello che mi hanno anche avvisato che la Che piante contro zombie la Sarebbe stato paragonabile ai tempi modelli L'elemento dell'Egitto Mi dice Notte da fare Qua tutti i fozzi Ma oddio Questa è difficile Perché i fozzi Il primo questo Neanche mangolo Sono tanto fozzi Sono tanto fozzi Ok allora fozzi Fozzi E ho due di fozzi qua Questi sono tutti mangolo Due fozzi ci sono Uno e due Vedete ci sono altri fozzi C'è una nette mar fozzi Scusa Qua non c'è Qua non c'è qualsiasi C'è niente marmangolo Solo fozzi Quindi questi due Ok Allora per questa notte Attivo la power Telecamera da lui Sì ma lui Se lo controlli Qualche volta Non si agita L'ho capito C'è di controllarlo un po' Spesso Però Controllarlo così Nella UCN Cioè nella 50-20 Sarà un problemaccio Vabbè io tranquillo Lo guardo così Ti vorrei dire buonasera Ok Che qua vediamo anche poster Ora possiamo fare meglio la stanza C'è uno poster La maschera di Enna Che comunque si tiene sempre là Per Decorazione Sicuramente Ma anche C'è il poster di Circus Baby Fantanpozzi Ok C'è sempre quel pagliaccio Pagliaccio Ti diverti a vedermi Netmarion C'è pure Eh guarda guarda Che c'è scritto Quale sparti Ah questa è la cita Una telecamera nel mio interno Ci facciamo Perché posso vedermi la mia stanza Io posso vedermela Ah appunto Questo possiamo cambiare Con due click Sì appunto Devo cliccarci Va dentro al centro Cambiarlo bene O c'è un coin Bombola del gas Poi altre cose Ventilazione Il pappagallo Non spunta molto spesso Devo dire Allora C'è anche la tortellina di Cica C'è tutto mischiato In poca parola Questo è un FNAF 3 Mischiato C'è anche cose di FNAF 3 I palloncini di FNAF 6 Mi sembra Ma come si possono Di FNAF 6 Sì Le maschere di FNAF 3 Sì Ha collegionato tutto Se portavo tutte Questa Questa specie di ufficio Si tiene tutto E se le Tenute Vittoria E anche la notte di Pozzi L'abbiamo fatta Ah Queste sì che sono notti Vabbè Queste l'abbiamo già viste Questa roba Allora Mi ricordo Ok questa è l'ultima notte Trafatti in totale Una Due Tre Quattro notti Ok Ah sì La notte fai tutto FNAF 3 E 6 E 6 però Sono soltanto quelli rotti Ok quindi FNAF 3 Ok E 6 Sono quelli rotti Quindi quelli rotti Sarebbero quelli Ma all'uso Questi che noi salviamo Tecnicamente Bella questa Infatti sono 4 e 4 Ok 8 animatronis Non c'è nessuno da vera Do che esista Non c'è nessuno Chiediamo una roba a caso La 4 Do ci sbuca La persona Buona Una volta Tranquillamente Ok Allora Attiviamo il drop Che Ah no Sì No Che c'è Lefty Z Ok Ok già questa notte Potrebbe causarci un po' più Di problemi Questa sì Non c'è ancora nessuno Perfetto Didi Cara me didi Io già da animatronis Se ne ho parecchi No Cioè Oddio ne ho 8 Però Cioè Non è che ne ho aggiunti altri Non è che si faccia Non è che è più semplice Ma aggiungerli Oddio non vedo se c'è Il robo Salve Mi è spinta una volta Addio mi sembra Poi Abbastanza dire Oh Ok qui non ho sbucato nessuno Chi è appunto Conque system Conque system Nessuno mi ha aggiunto Mi ha aggiunto Ventilazione Non so che mi ha aggiunto Tegavate i pozzi Nah Non c'è come il tiro cristiano Questa è difficile con loro Ok via Mi ha aggiunto Rockstar Bonnie Che è uno dei peggiori In questo ambito Mi sembra Ma guardate Riffnaff 3 Questo compare sempre Così si è arrivato Signore Tutti no Non c'è ancora nessuno Qua Scrapp Non ho ancora attaccato Non ho fatto la sua mozza Ok si Scrapp Non ho ancora attaccato Quello spunta anche se noi non lo spieghiamo Ovvero Vabbè non sarebbe Ounque male Ricordiamoci tasto app A chiudere la roba 5 F Mamma mia Potto spaventare Vabbè non dovrebbe arrivare Pronto questo casino Lerty no Mi sembra di no Potremmo controllare C'è l'erty Sì No Non c'è l'erty Eh notte interessante Chi me l'ha fatta questa Filippo Questa notte Veramente interessante Filippo Perché mi ha aggiunto Animatronics Di Compagnia diciamo Bella Quindi In app 3 Da un po' Di problemini E chi vuole sempre La torcia qui Quello io l'ha condotto E anche quelli rotti Potrebbero lavorarci Problemi In effetto Bravo Filippo Bravo Filippo Se avrebbe fatta Un mio amico Questa notte Sarebbe morto Per 5 secondi Quindi Perfetto Notte fatta Addio Con chiuso le due porte E ragazzi Vi devo dire 1660 punti Questa notte vale Questa notte vale Questa notte vale Ragazzi Diamo un premio A Deer Dunner Con la notte più difficile Poteva farmi Allora Devo dirvi un po' Tutte le notti Mi sono piaciuta Abbastanza Perché Anche fare Tipo esperimenti Giocare Sottanto con Pozzi Sottanto con Bonni Sottanto con Mango Sottanto Frampe 1 Con H3 Con H3 E' stato molto interessante E la notte più difficile A me è stata Quella di Deer Dunner Quindi complimenti In effetti Grande scienziato Devo dire Come nell'immagine Ma ragazzi Per questo episodio è tutto E ci vediamo In prossimo episodio Di UCN Ciao a tutti Mi raccomando Sate attenti Alla notte Di Deer Dunner Che mi sembra Quella più difficile Nel prossimo episodio Faremo la tutti a uno Quindi preparatevi Sarà Non troppo difficile